Siamo a San Giovanni Marignano, ci sono i campionati italiani giovanili in corso, è appena finito il trofeo junior e abbiamo la medaglia d'oro. Greta Bianchi, com'è? Che emozione è? Sono molto felice, non me l'aspettavo, siccome ho la cavola da poco ed è nuova, ho un'emozione grandissima. Monti Vimara? Sì. Com'è? Che cavalla è? È una cavalla un po' particolare, molto brava e mi aiuta sempre. Sei seguita da Graziano? Nicola e Graziano Rodinetti. Che tipo di istruttore è Graziano? Sono molto bravi e mi cercano di dare il meglio sempre e mi sono sempre vicini. Per cui Monteliguria? Sì. Dove? A Spezia, il più cavallo di Vara. Prossime cose che farai? Per il testa event. Per il prossimo anno si punta agli assoluti. Cercherò. Ok, complimenti. Grazie.